Una lettera aperta al Ministero dell'Ambiente per chiedere un incontro atto a fermare definitivamente il progetto Pizzone 2. A distanza di due settimane dalla deposizione del piano di ampliamento della centrale idroelettrica con le integrazioni consegnate alla Commissione di valutazione di impatto ambientale, gli attivisti del coordinamento che si batte contro l'opera scrivono direttamente al Ministro Pichetto Fratin. La prima domanda che si pongono nella missiva è come mai non siano state ancora pubblicate sul sito del Ministero le modifiche presentate da Enel. Un mistero secondo le anime del coordinamento No Pizzone 2, mentre i tempi ormai sono già scaduti. Nella nota noi chiediamo anche che venga fatta chiarezza perché in tutta questa procedura c'è obiettivamente una carenza di trasparenza dovuta innanzitutto ai termini di sospensione del progetto che si sono protatti ben oltre qualsiasi limite stabilito alla norma, ma anche di questa volontà dichiarata e richiesta da parte di Enel di tenere segregato il quadro economico generale nelle osservazioni. Osservazioni presentate all'inizio, alla fine del 30 di agosto e che ad oggi non sono ancora pubblicate sul sito e che quindi ci come dire ci lasciano una condizione di profonda incertezza nella indisponibilità di avere quegli elementi che sono necessari per compiere una valutazione obiettiva. Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise insieme ad altri comuni ed enti interessati si sono già espressi in maniera negativa sul progetto di ripompaggio delle acque dall'invaso di San Vincenzo a quello della montagna spaccata. L'ombra della speculazione e il cono d'ombra coi omissis sulle specifiche economiche del piano sono già sufficienti a fermare l'opera. Fa specie inoltre come appunto abbiamo detto nella lettera che un'azienda come l'Enel apparentemente e che si professa molto sensibile ai temi della tutela ambientale non comprenda che questo insistere, questo tentativo di voler ad ogni costo portare avanti questo progetto si sta rilevando oltre che dannoso per il territorio e una minaccia all'interno sistema nazionale dei parchi nazionali che vengono quindi messi a repentaglio da questo attacco ma anche adesivo della sua stessa immagine e quindi chiediamo anche in questa occasione anche alla stessa Enel di ravvedersi e di porre fine a questo tentativo davvero incomprensibile di portare avanti questa devastazione.